Abbiamo parlato di energie rinnovabili come soluzione al caro bollette, ma siamo sicuri che sia l'unica strada? Non abbiamo alternative, ce lo dice il pianeta, non c'è più spazio per le fonti fossili. Quello che possiamo fare è continuare a rinnovare la nostra capacità di utilizzare energia pulita in modo tale che ce ne sia abbastanza per tutti. Cosa dobbiamo fare per raggiungere questo futuro 100% rinnovabile? Quello che faremo è continuare ad investire nello sviluppo di fonti rinnovabili. Ci siamo dati un obiettivo al 2040, quello di essere una società a emissione zero, anticipando di 10 anni l'obiettivo di neutralità climatica che era inizialmente fissato al 2050. Questo significa che tutta l'elettricità che generiamo sarà prodotta da fonti rinnovabili. Ma manca ancora parecchio prima del 2040? È un percorso nel quale dobbiamo proseguire. In Italia oggi abbiamo circa 600 impianti di produzione di energie rinnovabili per un totale di circa 14 gigawatt di capacità complessiva e prevediamo di installare un ulteriore gigawatt di capacità rinnovabile nel periodo 2022-2024. Proseguiamo quindi con lo sguardo posto sull'obiettivo 2040 emissioni zero. Speriamo che così si abbassi il prezzo dell'elettricità. E anche per questo però facciamo.